www.marcoparet.com www.marcoparet.com La Viter è una signora che sta portando l'automobile e sono due nomi che stanno lì e criticando molto molto animatamente Largo Prenesse e una fermata del 4109 1-8 E 3 Mi avvicino a questa nota di Largo Prenesse, se mi confini Stai avvicinando il semplice umane? Sì, sì, stiamo avvicinando anche noi a questa nota la cadita animale Perfetto, vabbè, è lì abbiamo delle macchine del 4109 E 3102 è l'altra l'attività è l'attività e' qui? no no non e' la, la non c'e' passare con il fermo di qua perchè è 4.09 e' passa qua e passa qua e' qui eh? chi e' che stava a litigare? a noi che stava a litigare noi stiamo a quello campo non stiamo a... non stiamo io in vicino non stiamo a morire aspetare auto, bene non stiamo insieme con loro No, io non faccio niente signora, lo giuro, non faccio problema, non faccio niente perché, io aspettare l'auto a Veneto Arco. E subito, non è che sta a litigare? Nessuno, non lo sapevo, non lo so, 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 non lo so. Non siamo lì, non li ma ne conosci? Non, nonilo ми, non siamo lì, non lo so. Non li diamo un cantto. Li dico parte cosa. No, non lo so. To NOIL. Spartinaa en ieriorida, N похourata.